sono riccardo arletti ho 28 anni di professione fatto l'artigiano costruisco infatti ecotende in materiale riciclato per il settore extralberghiero se dovessi trovare tre aggettivi per descrivere la mia bologna sicuramente direi che una città sincera perché si mostra fin dall'inizio per quella che è con le sue luci e le sue umbre un altro un altro aggettivo che mi verrebbe sicuramente in mente è quello che è una città colta ho infatti avuto l'opportunità di studiare presso la sua antichissima università alla facoltà di scienze politiche ed è stato veramente incredibile conoscere personaggi professori davvero di un grossissimo spessore e come ultimo aggettivo pensandoci un attimo direi che è una città aperta perché ti permette di essere davvero quello che sei di poter portare al massimo la tua personalità e le tue ambizioni perché a bologna c'è sempre un'opportunità per chiunque questi sono i miei tre aggettivi per descrivere la mia bologna